Quando i videogiochi si fanno poesia e vanno oltre le semplici dinamiche ludiche, bene, a questo punto possiamo dire che avviene quasi una magia. Esattamente come è avvenuto qualche tempo fa su PS3 con Journey. Il viaggio, l'esplorazione delicata, quasi onirica, declinata in maniera estremamente raffinata da Death Game Company. Un capolavoro senza tempo che a fine luglio potranno provare anche i fortunati possessori di PS4. Journey è finalmente disponibile per PlayStation 4. Il viaggio di Genova Chen, genialemente creativa del team Death Game Company, è un inno alla delicatezza, alla suggestione, al modo riconoscibile in cui arriva l'anima dei videogiocatori. Journey è uno straordinario esperimento ludico, perfetto, senza contratture, capace di stupire e far riflettere, terrorizzare e appagare nel contempo. La struttura ludica è volutamente esile. Si può camminare, saltare aiutati dal vento o emettere un semplice suono. Guidare il nostro alter ego, così strano e incomprensibile, così leggero e ammantato da un finissimo tessuto, è semplicemente eccezionale. Journey è un capolavoro di delicatezza che talvolta scardina la routine e gioca con i colori. Un colpo d'occhio impressionante, anche grazie ai 1080p. Journey è una vera e propria opera d'arte digitale. La versione per PlayStation 4 include anche gli altri due capolavori del team, Flow e Flowers. Almeno una volta nella propria vita, un vero gamer non può non provare un capolavoro di simile portata. Un percorso indimenticabile che non può mancare nei ricordi di qualsiasi giocatore. Un'esperienza diversa da utente a utente, che non potrà che lasciarvi qualcosa di indelebile. Journey è in sostanza un capolavoro imperdibile anche su PlayStation 4, veramente un delitto lasciarselo scappare.